Scontro frontale tra due auto in mattinata in Viale Trento e Vicenza. Feriti i conducenti dei due mezzi soccorso dai sanitari del 118 e trasportati per le cure del caso all'ospedale San Bortolo, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi distrutti dal violento impatto. Sulla dinamica è al lavoro la polizia locale. Costa Bissara, pranzo di Natale in famiglia, tutti i figli e nipoti a casa del nonno ottantenne che si mangia il pesce. La giornata trascorre felicemente finché i nipoti più piccoli iniziano a sentirsi male, ma poi via via tutti gli altri commensali. Alla fine sono in 11 a presentare i sintomi dell'intossicazione alimentare. A causarla sarebbero stati gli antipasti di pesce. Ogni Natale purtroppo capita a qualcuno. Marano Vicentino, il lancio dei rifiuti per strada, non è un nuovo sport. Sono almeno 10 le segnalazioni arrivate in una settimana, in particolare lungo strada Maranese, via l'Europa, via Santa Lucia, via Capitello di Sopra, via Monte Pasubio. Ci sono automobilisti che in corsa gettono sacchi di rifiuti. Oltre al degrado rischiano di essere pericolosi per gli stessi automobilisti. Condannato per traffico internazionale di cocaina. 57enne sconta la sua pena in regime di semilibertà come volontario in tribunale a Vicenza. Ma il lupo, a quanto pare, perde il pelo ma non il vizio. Sarebbe finito in un giro di auto rematricolate con l'inganno e avrebbe prestato del denaro con interessi superiori a quelli illegali, ricevendo impegno a opere d'arte. Indagato per truffa ed usura, è tornato in carcere. Barbarano Mussano entra in un locale a Santo Stefano e col piede di porco tenta di forzare una macchinetta di videopocker per sottrarvi il denaro. Il titolare avvise i carabinieri che arrivano sul posto sorprendendo il 27enne albanese in flagrante. L'uomo è stato denunciato per tentato furto aggravato. Cornedo. La cartolina è del 1944. Era stata spedita, nella vallata dell'agno, da un artigliere vicentino ventenne, prigioniero in un lager in Germania. Con 74 anni di ritardo, arriva il figlio. A consegnargiela, un collezionista che, dopo averla trovata, si è attivato per rintracciare i parenti e consegnare questo commovente ricordo. Grazie. Grazie.